Buon primo maggio, la festa dei lavoratori. Il mio pensiero va a tutte quelle persone che in questo momento non stanno lavorando, in particolare a chi lavora nel settore del turismo, della ristorazione ed anche e soprattutto a chi lavora nel mondo dello spettacolo, dell'arte. L'arte è una risorsa che chi ci ha creato ci ha donato ed è veramente una risorsa per la sopravvivenza e la memoria di ogni civiltà e il fatto di non poter esprimere a dovere questo grande dono che ognuno di noi ha è veramente terribile. Per cui io spero i primi maggio migliori. Questa mattina sono sotto un albero che si trova nella corte di casa mia. È un albero molto particolare, si chiama Gelso degli Osagi. È originario del Nord America, viveva nel territorio dei nativi americani e stranamente si trova anche in Toscana perché qualcuno anticamente l'ha piantato qui per poterci coltivare i bozzoli del baco da seta ed è veramente incredibile come un albero possa unire la storia di più popoli. E poi c'è un'altra motivazione ovviamente. Oggi è il giorno dell'albero del maggio. In realtà in Maremma si cominciava già dal giorno prima. Il 30 aprile, racconta Roberto Ferretti, si sceglieva un albero che veniva in qualche modo sacrificato per quel percorso che noi conosciamo come i canti del maggio, i canti di questua. In genere si sceglieva l'albero di alloro. Perché alloro? Perché è un sempreverde. È un simbolo di rinascita, di immortalità. E spesso veniva portato sotto forma di una parte delle sue fronde in giro per i poderi a chiedere la questua da parte del gruppo dei maggiaioli. Quindi era un momento veramente importante. Era un momento ritualistico. Io racconto nel capitolo Inni alla Natura Sacra, nel libro Tradizioni Magiche e Maremma, che già dal 25 aprile si cominciava a collegarsi a quella che era la sacralità e la fertilità della natura. Allora, il 25 aprile, per San Marco, a Santa Fiora, si celebrava un rito molto particolare, che era il ritaggio di quello che nell'antica Roma si chiamava coronamento caput fontis, cioè venivano fatte delle coroncine di fiori e buttate alla fonte. In particolare a Santa Fiora ci si recava l'oratorio della Madonna delle Nevi, dove si trova una delle sorgenti del fiume Fiora, e si faceva gettare a bambini alla sorgente questa coroncina. Perché questo? Perché l'acqua trasportava il pensiero di fertilità collegato alla natura. Dobbiamo pensare una cosa molto semplice allora, ma che noi abbiamo perduto. Tutto il sostentamento delle comunità proveniva dalla terra, dal lavoro della terra, per cui propiziarsi il raccolto che sarebbe arrivato con l'estate era fondamentale. Noi andiamo a farla spesso al supermercato e quindi ci dimentichiamo spesso di quale fatica comporta il lavoro della terra. Ma per la realtà rurale di allora, e nel caso di Santa Fiora, per la comunità montana che soffriva spesso le carestie, era fondamentale ingraziarsi quasi erofanicamente le forze della natura, perché il raccolto non si rovinasse, perché non vi fossero tempeste o grandinate che potessero minarlo nel futuro. Ma il primo maggio succedeva anche un'altra cosa in Maremma, che è legata a quel Guglielmo, quel santo dell'erba agrimonia, che è patrono di ben cinque borghi della Maremma. Ecco, dalle parole di Fiorenzo Corzali, vorrei raccontarvi velocemente cosa succedeva il primo maggio a Tirli. All'alba del primo giorno veniva suonato il tamburo di San Guglielmo, partendo dall'abitazione del capitano, per ricordare i trascorsi guerrieri del santo. Alla messa delle undici, il tamburo, affiancato da alabarda e stendardo, raffigurante il santo che trafiggeva il drago, accompagnava il capitano e la sua famiglia alla funzione. La contrada era addobbata con alberelli di leccio, fissati a cantoniere e a porte. Nel pomeriggio il tamburo accompagnava all'urna con le reliquie lungo tutte le vie del borgo. Il secondo giorno venivano estratti i festaioli per l'anno successivo, che se accettavano dovevano gridare «Viva San Guglielmo!». Il terzo giorno si andava in pellegrinaggio alla Malavalle, dove veniva celebrata la messa tra i ruderi, e poi si tornava in processione a tirli. Nell'occasione, le ragazze e i giovanotti si promettevano amore prendendo gli alberi per testimoni e tenendosi per mano e circondando l'albero. Essi dicevano «Questo è l'albero delle foglie, tu il marito e io la moglie», oppure «Grato è l'albero fiorito, tu la moglie e io il marito». Per un anno intero, Stendardo e Alabarda erano custoditi nella casa del nuovo capitano. Questo rito di abbracciare l'albero è antichissimo e si faceva anticamente proprio nel mese di maggio, nel mese Sacro Ammaia. Ed era la partenza per quella ritualità dedicata ad Attis, a Cibele, a Bonadea, ad Anna Perenna, alla femminilità e al sacrificio del maschile perché la fecondità fosse rigogliosa, cioè quindi la fecondità della natura fosse rigogliosa. ed ecco, non dimentichiamo le nostre radici perché ci portano veramente molto lontano. Oggi, purtroppo, per l'emergenza coronavirus non possiamo festeggiare come normalmente succede la festa del primo maggio. Proprio per questo un pensiero agli antichi, un pensiero alla natura e colleghiamoci quando possiamo alle forze della natura stessa vi invito oggi, se riuscirete, a pensare alla protezione della natura che ci fornisce il sostentamento anche se adesso non lo riusciamo a comprendere bene. Un abbraccio a tutti voi e buona festività a tutti. Ciao!